E' stato proprio un ottimo pomeriggio, mi sono divertita un mondo, sono super contenta che la piscina abbia riaperto. Ciao Tiger, lo sai che c'è la tua cuccia, perché vai dormire sul mio letto? Dai scendi. Miau, su, miau miau. Cosa? Il telefono ha suonato? Miau miau. No, fammi un po' vedere. Ah, non è un messaggio, è una soffiata anonima. Sono delle foto di noi, scattate soprattutto a Blair e Sara. Ah, vorrà che le pubblichi sul blog. Ma chi può aver fatto delle foto? E perché vuole che le pubblichi? E perché proprio noi? Miau miau. Beh, non saprei. Cioè, non vorrei che questo desse fastidio a Sara e Blair. Io non voglio di nuovo che ci siano grane nella loro relazione. Sono appena tornate insieme. Miau miau. Beh, a me non darebbe fastidio perché, beh, non sono fidanzata. Poi, insomma, io ho il blog, tutte queste cose, sono abituata a essere fotografata e fare video, tutte cose così. Loro invece, no, non finiscono spesso sul blog. Miau, miau miau. Sì, 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 sì. Secondo me è meglio non pubblicarla. Ecco, adesso poso il telefono e mi guardo qualche video su YouTube. E tu uscini dal mio letto? Miau, 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 miau. Ah, va bene. Però non tanto. Miau. Intanto in pasticceria? Ah, non è proprio giusto. Ho mandato quelle foto ieri a Giulia e non le ho ancora pubblicate. Ah, uffa. Perché ha pubblicato quella foto lì falsa e questo non lo pubblica? Insomma, dai, sono solo delle foto di loro in piscina. Quella ragazza non sta bene mentalmente. Uffa, pensavo di poter sfruttare quel blog che scrive i segreti di tutti per riconquistare Blair, ma ovviamente non funziona perché sono super sfigata. Non so proprio che fare. Avete visto l'ultimo video di Chiara Ferragni? Ha pubblicato una poesia super bella al suo fidanzato. Già, mi ha commossa. Oh sì, io ho super messo, subito messo like. Io ho proprio salvato il video. Oh, ma anch'io. Una poesia? Mmm, potrei dedicare una poesia a Blair, fargli la foto e mandarla a Giulia. Lei magari la pubblicherà perché penserà sicuramente che è di Sara. Sì, è un piano perfetto. Vado subito a casa a scriverla. Eccomi qua. Mi metto subito all'opera. Ecco, prendo il mio quaderno. Prendo il fucsia. Non ho il verde, ma almeno ho già un colore che gli piace. Dolce Blair. Le rose sono rosse. Le viole sono blu. Nessuno è dolce come lo sei tu. Ah, la prima frase è venuta benissimo, adesso continuo. Bene, ho finito e sto super faticoso, ma finalmente ho finito. Metto la penna a posto. Ora non mi resta che fare la foto alla poesia. Perfetto, adesso lo mando al blog. Spero davvero che questa la pubblichi, se no non so proprio come fare. Inviata. E ora non mi resta che aspettare. Beh, magari mi guardo un po' di tv. A casa di Viola? Ah, questi video sono super divertenti. Miau. Cosa? Il telefono di nuovo suonato. Ma no, ma non è possibile, l'avrei sentito. Miau. Dai, ora controllo. Accidenti, è vero. Ma com'è possibile che lo senti solo tu? Miau, miau, miau. Non è vero che stavo sghignazzando. Vabbè, comunque vediamo chi è che mi ha mandato il messaggio. Ah, di nuovo una soffiata anonima. E la foto di un quadello. Le rose sono rosse. No! Sara per festeggiare il suo rifidanzamento ha scritto una poesia per Blair e me l'ha mandata. Così la pubblico sul blog. No, vabbè, che cosa romantica. Wow, non trovi, Tiger. Miau, miau. Ma certo che l'ha scritta lei. Chi altro avrebbe potuto? Miau, miau. Ma per fare l'aspetto sorpresa, ovvio. Questa la pubblico di sicuro. Ecco, fatto. Blair ne sarà felicissima. Miau, miau. Sta zitto, tu non ne capisci niente e scendi dal mio letto. Forza, scendi e vai nella tua cuccia. Miau. Ora vado a prendermi un succo. Miau, miau. Ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Secondo voi Giulia ha fatto bene o no a non pubblicare quelle foto? Certo che ho fatto bene a Blair e a Sara non avrebbe fatto di sicuro piacere. E neanche gli altri, perché sono venuti anche loro. Magari neanche i loro genitori sarebbe piaciuto. Perché il mio blog lo legge tutta la città. Anche la città alta. Che cosa ne pensate della poesia di Carola? Carola, complimenti. Non pensavamo fossi così romantica. Grazie. Con la mia poesia di sicuro Blair si innamorerà di me. Spero davvero con tutta me stessa che Giulia la pubbliche. Se no, giuro che vado da lei e gliene dico quattro. Ma così capirà che sei stata tu. Non mi interessa. Farei di tutto per stare con Blair. Ok. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Iscrivetevi, lasciate like. Giusto? E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, un bacio e... Miau.